Valorizzare il ruolo della statistica per una corretta programmazione delle politiche territoriali è l'obiettivo del convegno organizzato questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo dall'assessorato al lavoro del Comune in collaborazione con l'Istat. A conclusione di un percorso avviato già nel 2015 con un protocollo con l'Istat, quindi con l'Istituto Nazionale della Statistica proprio perché l'amministrazione ha sempre creduto nell'importanza dei dati per il posizionamento delle politiche. Significa che se noi conosciamo cosa accade in un singolo territorio come nel nostro caso la municipalità poi è più semplice posizionare o allocare una politica su un territorio che esprime un fabbisogno preciso. L'incontro aperto dai saluti del sindaco Luigi De Magistris è stata occasione di confronto sulle tematiche connesse all'uso di dati e indicatori statistici ed ha visto la partecipazione di esperti Istat del mondo accademico e di rappresentanti di diversi comuni italiani. È un'occasione di divulgazione e anche di scambio di valutazioni con i rappresentanti delle istituzioni locali per valutare anche il potenziale informativo che possiamo mettere in campo. Stiamo progettando dei sistemi informativi di diffusione e in questa fase è molto importante capire le esigenze degli utenti perché appunto si tratta di una nuova generazione di dati inedita, devo dire, nel panorama anche europeo e quindi c'era una richiesta anche di interazione con i rappresentanti dell'utenza e questa occasione è assolutamente qualificata per portare a casa un punto di vista originale che ci sarà utile nella progettazione dei sistemi.